Il primo strumento meccanico della storia perché si può suonare la melodia, fare l'accompagnamento, suonare il ritmo e cantarci sopra ed era lo strumento preferito dei mendicanti e dei cechi perché non c'è bisogno di guardare cosa si suona adesso è perfetto per gli ubrianchi perché proprio guarda io mi sono dilettato in questo sport una meraviglia Cosa ha fatto reverendo? Non sento un cazzo ma va bene, a posto, un applauso al reverendo, reverendo assolvili tutti Pronti via, Ghirondo 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 Pronti via, Ghirondo